Vero? Ti senti? C'è qua una missione gialla, vediamo che cazzo... Che sei un coglione, una cosa impressionante! Ma come cazzo è che sei così coglione? Vieni qua, vieni! Camminiamo insieme perché stanno due a due le pizze le buttate! Minchia, vieni! Che sei un coglione! Demo non è riuscito a comprare i minchia che sei pieno! Ma ammazzatelo cavallo, ma tu ti rendi conto! Ok, allora, dobbiamo risolvere questo problema, no? Intanto allontaniamoci di qua che questa cazzo di carrozza mi fece stuidere l'arecchio con questa musica del mare! C'è un covo? Dov'è? Qua! Sì, 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 sì! Allora, intanto è a vedere qua come far ripetiare questo cavallo che è molto preciso! Aspetta! Aspetta! Ok, ci sei? Aspetta! 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 morti all right you have my attention look at me we cut from the same cloth how about letting me go just turn your back long enough for me to run all right i'm on the trail you're getting them panties in a twist boy oh you're picking a fight mario oh oh c'è solo l'ultimo bastardino che c'era qua c'è niente in giro no non c'è un cazzo ok allo e ti dicevo dovremmo vedere qual è il problema perché se no non possiamo fare neanche le missioni tu non ci sai però nella mia borsa non ci sai visto questo è il problema che non ci sai questo non ci sono perché tu sei entrato e poi ti invito di nuovo ti ho invitato prova ad entrare ok ora sì che stai nella mia posta ti sei unito alla posta ok ora possiamo giocare dai e allora tu sbagli a fare il procedimento la prima volta no no sempre lo stesso procedimento faccio è una cosa deve essere sarà qualche bug non lo so allora andiamo verso all'acqua è a black water ci sono le taglie andiamo verso black water forza però siccome c'è un bel po di strada conviene fare un po di animali e piano perché poi c'è pure lì c'è pure il carnaio è tutto però qua mi dà un tracciato forse un po più lungo e infatti io sto prendendo e infatti sto prendendo verso verso la meta ma ci sono un po di piante un po' ne io sti cazzo di settaggi mi scassano la minchia a scicchire questo c'è non male che ero in video se no mi ammazzavo stavo ritagliando la pelle era in sequenza video e che cazzo dai scendi porca puttana mi riso poi con sopporto questo gioco in pratica ho messo i settaggi al massimo dell'acqua dell'effetto dell'acqua di riflessi e quando avvicino una le zone unice acqua mentre rallenta a 30 fps è un bello che non li posso abbassare perché se provo a abbassarle mi si pianta il gioco addirittura impressionante ma stai avendo troppi problemi con questo gioco non capisco perché a questo paese a quanto pare siamo arrivati quindi dove è il carnaio dove è il carnaio 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 il carnaio è sempre qui ok tieni non c'è una niente non c'è una niente si si ammazzare una cristiana mario eh lo so l'altra volta non è che la volevo uccidere va bene ammazzare va bene ammazzare spieghi bene queste cose che hai qua allora carne di selvaggina adulta ne vendo un po' perché ne ho troppa andiamo Piero 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 Mario oh mi senti eh si ma che cazzo hai fatto eh vedi sbagli tu che non mi inviti nella posse mi inviti nella sezione free roam Arrera per ora nella mia posse tu sai in questa questa volta si la prima volta mi hai invitato nella free roam io per questo non ho accettato o meglio ho accettato per dirti che non era che non avevi fatto la cosa giusta ora siamo nella stessa posse io sempre allo stesso modo ti invito Piero non faccio altre cose secondo me deve essere qualche bug del del gioco allora dove sei tu? e allora delle tre dei tre quale ti accogli il più bastardo oppure no vai 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 il più bastardo vai ho scelto bene 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 questa roba è bella cazzuta la taglia è solo su di lei e quindi dobbiamo riconoscerla pure capito? cosa eh ha una una cicatrice sulla faccia come facciamo a capire che è lei? e come e come la prendiamo? ha una cicatrice di dico come la prendiamo? che cosa? dobbiamo riconoscerla? da ok guarda 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 vedi vedi no no non c'è Eh, mi stanno ammazzando, capito di vera Una fuggia di Mario Ah, porca puttana E' la tutto da capo No, no, la missione continua Non ce n'è tempo No, non ce n'è tempo Ma dovremmo ammazzare Vite esaurite Esaurite, noi siamo tutti rudi Ah, ok La voglio a beccare singolarmente Sperate che sia lei Io vado verso di questa Tu vai verso di qualcun altro No, da soli no, non ammazzano Mario No, vado a collaborare Anche perchè non è che ci potremo sparare L'avamo a bloccare Usi Io l'ho legata una La cmdx, lega una come scendo dal cavallo? con lei! va bene, andiamo a porco! tu ragazzi stai chiedo sbagliato vediamo, non c'era niente! a tutte e due ragazzi! ma lei non era una cosa della missione! si! si! andiamo? non su io! non sono lei a quanto male! camminiamo insieme perché stanno due a due le p***e f***e! m***a pieno! che sei un co***o! siamo l'unicido coppola di m***a che sei fina! ma ammazzatelo cavallo ma tu ti rendi conto! tu ammazzati la mia! ho capito! io siamo l'unicido coppola di m***a che si filano a scontrare se non sono un paese divissima! che sei un coppola di m***a una cosa impressionante! un po' di sbagliato! si si ok, abbiamo scendato tutti! oh vabbè loro sceltenanze eh! ma chi è subito non mi scappare Mario? Certo. Io già sono scampato. Mi stai pigliando una. Ah, ma come cazzo è questo cazzo di ogo? A me a fare in altri che a me a ammazzare chi si concentrano niente a me a ammazzare una poco perché ne vengono, ne vengono da preso. Certo, no, non ne vengono da preso. Oh, ma abbiamo ammazzato, ne vengono da preso. L'avevo presa, l'avevo trovata. Ti stai dicendo che andiamo a ammazzarlo mentre che Dio l'ha preso al lago. Sì, ma va su, canina. Eh, vabbè, va su. Eh, ma amento le cose. Ha preso tutte cose tu, sai, il mago deve stare a rambungiare minchia, popolazione del cazzo. Amore, muovere, cazzo è nuve. Mi sa che stiamo andando a trovare sulla stessa. Vedi che mi sparano tra il re? Popolazione minchia, non siamo. E' un popolazione minchia, sì. Ma io mi sembra venuto, e te lo sei. Ora appena avendo l'uovo, ti sminchiare il legno. Arrivare a tirare. Non so. Ma invece di ammazzarlo, ci spara. Ma tu sei un popolazione. Invece di riprendere, ci spara. Ma chi sta con centenarone che da quel bollino? Che da quel bollino, che stai? Sì, che da quel bollino tra avanti, se ci stai di p***a. C'è uno, no tra – cazzo. come on let's just pump this out e' stato crost e' stato herr i'm gonna make you pay for this you got the first idea what you're getting yourself into here you think this is some easy payday let me assure you Oh, 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 oh. You think I won't be able to find you? You think I don't know who sent you? That bounty hunter reckon she's something special. Oh, Luke. You think I won't escape again? Ow. Toss him in the sternest cell you can find. Well, I guess all that's left is your payment. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. e poi abbiamo un discorso